Un calendario per finanziare le tante iniziative dei ragazzi di AIPD di Latina. In collaborazione con Assi Impresa Ore Calazzo Sud, da sempre attenta al sociale e a quanti vivono realtà meno fortunate, è stato presentato il nuovo calendario per il prossimo 2023. Tutti gli anni presentiamo il calendario dell'associazione che serve per raccolta fondi e per gestire le varie attività che poi faremo durante l'anno di autonomia e quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere i ristoratori della zona. I fotografi in realtà sono degli amici dell'associazione Stefano e Riccardo e loro fanno con noi i fotografi ufficiali praticamente da quando è nata l'associazione, ormai sono dieci anni, dieci calendari e quindi ecco per questo dicevo i ragazzi ormai li conoscono e si mettono in gioco con loro. Il presidente di Ore Calazzo Sud, Italo Di Cocco, già presidente per oltre 35 anni di Fipe Conf Commercio, emozionato ed entusiasta ha immediatamente accolto questa richiesta e ha subito coinvolto gli altri associati ristoratori che hanno ospitato i ragazzi e offerto le loro strutture dove sono state realizzate le foto. In famiglia abbiamo una persona che ha questo stesso problema e siamo un po' preoccupati soprattutto per il fatto dell'età fino a quando, fino a come e allora io ho accolto l'occasione e dico sì, dobbiamo fare qualcosa per loro ed è bello. Ho coinvolto i nostri associati della Oreca, in modo particolare i ristoranti, abbiamo raccolto proposte che sono arrivate un po' dappertutto e questo è bello, è positivo perché comunque trovare un ristorante che si presti a questa iniziativa è bello, è bello perché i ristoranti sembra che curino soltanto e solo il proprio lavoro, no, vivono anche il sociale e lo vivono di cuore veramente.